Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il video per il contest di Serenart. Lei ci ha chiesto di far vedere un massimo di cinque creazioni e non c'è un tema specifico. Allora per prima cosa vorrei farti vedere questo gattino che ho fatto in ceramica. Ho fatto anche il video mentre lo stavo dipingendo. Spero ti piaccia. È tutto un gattino nero con il cuore rosso tutto brillantinato come puoi vedere. Io adoro i brillantini. Spero si capisca e lo metto qui. Andiamo avanti. Poi volevo farti vedere questo personaggio di League of Legends. Si chiama Timo. L'ho fatto da poco in Fimo come puoi vedere. È un giondolino. Ho fatto solo la faccia. Spero ti piaccia. Lo metto qui. Ho fatto questo giondolo in resina. È un girasole con le micro perle dentro e le paillettes come puoi vedere. Allora poi volevo farti vedere questa stella marina che ho fatto anche questa da poco in resina con l'effetto tutto sfumato. Infatti è giallo al centro, verde e blu. tutta brillantinosa. Fatta così. Bella grande. Spero ti piaccia. Lo metto qui. E come ultima cosa vorrei farti vedere questo questo altro giondolo in resina sempre a tema marino. Come puoi vedere ci sono le stelle marine, i pesciolini, le conchiglie varie e tutto il resto tutto a tema marino. Ho fatto lo spondo come si dice bianco con i brillantini bianco effetto sirena, azzurri e sempre quelli bianchi effetto sirena. Eccolo qui. Vi faccio vedere un po' tutto. Queste sono queste sono le mie creazioni per il tuo contest. Spero ti piacciono e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!